Poracci, bravi tutti a cogliere la JoJo's Reference, anche se si tratta non di Jotaro ma di Ban, protagonista di Fighting Vipers e il suo seguito. Ma qui vi ho fregato perché in realtà il gioco in questione non è Vipers, Lens non vi può tornare utile, si tratta invece di Fighters Megamix, come ha indovinato prontamente Pasquale. Mentre la risposta più creativa è stata quella di Simone, che con Nintendogs ha centrato pienamente nel segno. Bravi, vi voglio creativi. Bene, prossima sfida. Di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a 360 gradi. Aggrediamo questo martedì con nuove speculazioni riguardanti la remaster di Alan Wake, che potrebbe arrivare su Switch, e il sempre meno probabile direct di settembre. Proseguiamo poi con Kena, il titolo più discusso del momento, e terminiamo con i sconti Switch che partiranno da dopodomani, il 23 settembre. Cioè, ma vi rendete conto di quanto è ricca questa puntata? Quasi mi sento a disagio di fronte a tanta opulenza. Ma sapete come potete aiutarmi a risolvere questa incresciosa situazione? Ovviamente iscrivendovi al canale, depositando un like e suggellando la vostra partecipazione corale con una dedica digitale nell'apposito spazio sottostante. Ok, la smetto. Dai, su. Che tra l'altro manca pochissimo ai 20.000 Poracci. Un traguardo... Inoltre, vi ricordo che se volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, potete diventare Deporeon, abbonandovi al Patreon Deporacci. Trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Sono iniziati i festeggiamenti riguardanti il 25esimo anniversario della serie di Persona, e Atlus ha svelato la prima di sette iniziative che ci accompagneranno da qui fino alla fine del 2022. Di cosa si tratta? Per il momento nulla a tema videoludico. Nel video presentato da Morgana non si è parlato né di un nuovo capitolo, né di eventuali remaster o remake, ma di qualcosa relativo all'animazione e alla musica. Presto infatti saranno disponibili in streaming, solo in Giappone, gli anime di Persona 4, Persona 4 Golden, Persona 5, il film di Persona 3, e anche il primo anime della serie, ovvero Persona Trinity Soul. Inoltre il 21 novembre si terrà un doppio spettacolo alla Tokyo Opera City Hall, che sarà un'orchestrazione di varie tracce provenienti dalla storia della serie. E per finire, la vocalist di Persona 5 sarà la protagonista di un mini concerto in occasione del Tokyo Game Show. Tutto qui per ora. Il prossimo reveal è previsto per dicembre di quest'anno, e speriamo che abbia in serbo notizie che possano interessare anche il pubblico occidentale. Attenzione perché un'amatissima mascotte Namco potrebbe fare il suo ritorno a breve. L'azienda giapponese proprio questo mese ha depositato dei marchi registrati dal nome di Wafu Encore e 1.2 Encore. Con il termine Encore, Namco è solita indicare le operazioni di remaster sul territorio giapponese. Ad esempio Katamari Damacy si chiama Encore e non Reroll come da noi in occidente, mentre Wafu è il celebre motto di Clonoa. 1.2 potrebbe indicare la volontà di proporre una collection di Door to Phantomile uscito su PS1 e poi in seguito con un remake su Wii e Lunathias Veil, gioco uscito nel 2001 su PS2. Si tratterebbe sicuramente di un gradito ritorno, visto che si tratta di giochi apprezzatissimi dalla fanbase, nonché dei veri e propri oggetti di culto ricercati in ambito collezionistico, nonostante poi la serie sia composta da pochissimi titoli. Voi avete mai giocato a un Clonoa? Magari quello su Wii? E di ritorni continuiamo a parlare, anche se di sicuro molto meno attesi. È stata ufficializzata la data di uscita del nuovo gioco ad opera di Zwery, il game designer conosciuto per aver messo la firma su una delle serie più controverse di sempre, Deadly Premonitions. The Good Life arriverà su PS4, Switch e Xbox One il 5 ottobre. E il trailer di presentazione, beh, diciamo che riporta tutti i tratti caratteristici della firma autoriale di Zwery, se vogliamo dire così. Insomma, questo RPG incentrato sul pagamento dei debiti sembra avere tutte le carte in regola per diventare l'ennesimo capolavoro trash demenziale ad opera del game designer giapponese. Se anche avete visto solo di sfuggita Deadly Premonition 2, beh, sapete cosa aspettarvi. E passiamo alle notizie del giorno. Una remaster che attendo tantissimo, quella di Alan Wake, potrebbe presto arrivare su Switch e tra le tante domande che una conversione del genere può suscitare, ce n'è una di sicuro che risulta cruciale. Perché se esiste la versione per Switch non è stata ufficializzata insieme alle altre. Sapete quanto io apprezzi i lavori targati Remedy? A parte il mezzo passo falso fatto con Quantum Break, per me da Max Payne in poi la software house ha tirato fuori solo titoloni e Control, la produzione più recente, è uno degli action in terza persona che più mi ha catturato negli ultimi anni. C'è bisogno di riscoprire Alan Wake, che grazie a questa remaster approderà all'infuori dell'ecosistema PC e Xbox. L'operazione promette di essere abbastanza conservativa, si tratterà infatti di una rimessa lucido e non di un remake, quindi con miglioramenti marginali al comparto grafico. Ecco quindi che la comparsa sul sito del sistema di rating brasiliano non sembra così assurda, si tratta in fondo di un gioco Xbox 360 che con le dovute accortezze potrebbe girare tranquillamente anche su Switch, senza contare poi che Remedy potrebbe scegliere la stessa strada intrapresa con Control e portare su console ibrida una versione in cloud di Alan Wake. Ora, con il gioco praticamente dietro l'angolo, l'uscita è prevista per il 5 ottobre, cosa aspettano Remedy e Epic Games a ufficializzare un'eventuale versione per Nintendo Switch? Beh, perché potrebbe trattarsi di un reveal pensato per occupare uno slot all'interno di un possibile Nintendo Direct. Siamo ormai prossimi alla fine di settembre, ma i rumor continuano a spingere per una presentazione Nintendo nell'immediato futuro e questo potrebbe essere l'ennesimo tassello a puntare nella direzione di un Direct di settembre. Voi poracci cosa ne pensate? Sareste curiosi di provare Alan Wake su Switch e secondo voi l'annuncio è tenuto da parte per un Direct? Finalmente poracci è uscito Kina, Bridge of Spirits o Kena, ancora non ho capito come si dice, e tutte le recensioni sono concordi nel parlare di un piccolo capolavoro. Nonostante il preoccupante silenzio stampa, il primo lavoro di Ember Lab ha spazzato via ogni dubbio, ma in ogni caso, fossi in voi, aspetterei ancora un po' prima di acquistare Kina. Infatti Josh Greer di Ember Lab ha ufficializzato una notizia molto importante. Il team ha stretto un accordo con Maximum Games per produrre una versione fisica di Kena che verrà pubblicata a novembre 2021. La versione per PS4 e PS5 è già prenotabile sullo store digitale di Maximum Games, ma il publisher assicura che il gioco sarà acquistabile presso i maggiori rivenditori, quindi probabilmente anche Amazon e GameStop. La Physical Deluxe Edition sarà in linea con il costo della Digital Deluxe Edition, quindi 49€, 10€ in più rispetto all'edizione standard, e conterrà tutti i bonus di questa versione, più qualche gadget come stickers e altri non ancora confermati. Capisco che due mesi non sono pochi, ma da collezionista incallito preferisco aspettare un pochino di più e avere la soddisfazione di aggiungere la copia fisica sullo scaffale. In fondo questo mese è uscito di tutto, Lost in Random, Deathloop, Eastward, Cruising Blast, poi a ottobre ci sarà Dread, di sicuro non c'è fretta. Voi poracci prenderete al volo Kena o a questo punto aspetterete novembre? E chiudiamo segnalando una nuova ondata di sconti che presto invaderà l'eShop. Come al solito non sarà semplice muoversi all'interno di tutte queste promozioni, ma intanto possiamo farci una prima idea di cosa troveremo tra questi saldi. La campagna promozionale intitolata Saldi Blockbuster prenderà il via giovedì 23 settembre alle 15 e promette di includere alcuni dei più popolari giochi Switch scontati fino al 75%. I titoli in offerta saranno oltre 300, non esiste ancora una lista definitiva, ma abbiamo già un elenco parziale di alcuni nomi presenti. Nintendo proporrà Super Mario Odyssey, Link's Awakening, Splatoon 2 e 51 Worldwide Games al 33%. Figurano poi nomi del calibro di The Witcher 3 al 40%, Sonic Mania a prezzo dimezzato e ancora Persona 5 Strikers, Shin Megami Tensei 3, la collection Doom Slayers e anche il secondo capitolo di Ori, senza contare un basso assortimento di produzioni FPS come Metro Last Light, Borderlands e Bioshock. E questo è meno di un decimo della lista completa, che andrà online da giovedì. Come al solito cercherò di consigliarvi i titoli più meritevoli, segnalandoli sia in video che nel gruppo delle offerte poracce. Intanto ditemi, tra questi nomi ce n'è qualcuno che prenderete sicuramente? E questo poracci era tutto per oggi. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per discutere assieme delle notizie del giorno e anche per cazzeggiare un po' con il quiz iniziale. Noi ci vediamo domani per un nuovo video, voi mi raccomando riposatevi e nerdate duro. Io sono il Poro Kena, Michele Wake, ciao! Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! It makes sense at Ember Lab, the developer of Kena, Bridge of Spirits... Kena, Kena!